Il Comune di Sciacca, già dichiarato nei mesi scorsi strutturalmente deficitario per i conti riferiti al 2019, lo era già almeno sin dal 2018. Lo denunciano oggi gli ex consiglieri comunali del centrodestra più l'indipendente Cinzia Deliberto, i quali rivendicano che i loro dubbi sulla crisi finanziaria municipale sarebbero stati confermati, parlando di scosse sismiche di altissimo livello economico che il Comune di Sciacca avrebbe subito. Una questione che Pasquale Bentivegna, Calogero Bono, Silvio Caracappa, Gaetano Cognata, Cinzia Deliberto, Lorenzo Maglienti, Giuseppe Miglioti, Salvatore Monte e Carmela Sant'Angelo oggi fanno notare di avere più volte evidenziato nelle sedute consigliare all'interno di dibattiti che tuttavia hanno sempre visto l'amministrazione liquidare celermente una prassi che ha, accusano, di conseguenza ridotto il confronto e inaspirato il dibattito. Esponenti dell'opposizione che definiscono sorpresa di Natale la certificazione che il Comune di Sciacca sia stato dichiarato deficitario anche per il 2018. Insomma sostengono un colpo dietro l'altro contro la negazione riferita alla Giunta Valenti di una buona e sana amministrazione. Si domandano Pasquale Bentivegna, Calogero Bono, Silvio Caracappa, Gaetano Cognata, Cinzia Deliberto, Lorenzo Maglienti, Giuseppe Miglioti, Salvatore Monte e Carmela Sant'Angelo se non sarebbe il caso che Francesca Valenti prendesse atto di queste negatività, ammettendo che in questi anni qualcosa è andato storto, non sono bastati gli slogan sul campo e i risultati non sono stati dei migliori e in questi anni, accusano dall'opposizione, l'approccio del sindaco e dell'amministrazione ha portato ad un'assenza di notizie e di confronto su temi importantissimi come quello economico e finanziario. Insomma per i firmatari della nota odierna è servito a poco probabilmente che il sindaco abbia scaricato addosso all'opposizione raffiche di colpi, accuse rivolte al passato, pretesti per deviare l'attenzione su cose più futili, i nodi sono venuti al pettine e riteniamo opportuno che la città venga messa al corrente. Una vicenda su cui il sindaco Valente ha replicato al nostro telegiornale sostenendo che la situazione economico-finanziare del comune di Sciacca non è così drammatica per come si vuole fare intendere, precisando che lo sforamento degli indici che hanno generato la dichiarazione di comune strutturalmente deficitario, anche per il 2018, scaturisce da una modifica della legge. I nostri conti non sono peggiorati, ma mentre prima eravamo a posto, a parità di situazione siamo diventati deficitari perché la norma ha modificato i parametri da rispettare. Comunque non siamo a rischio dissesto, ha concluso la Valenti.